Comunicare è un'arte che si può imparare, ma che tutti hanno la presunzione di conoscere soltanto perché dotati di una voce. Purtroppo non è così. Sabato 11 giugno, con Alex Poli, conoscerete il retroscena del modo migliore di comunicare. Vi aspettiamo all'Enterprise Hotel di Milano Corso Sempione per Discorso, una giornata di workshop suddivisa in teoria e tecnica. Nella mattinata parleremo di comunicazione analogica, come pensiamo, come comunichiamo, cosa ricevono gli altri. Scopriremo il concetto di sintesi, la valutazione dell'interlocutore, come verificare e gestire l'attenzione. Parleremo anche di comunicazione emotiva, di quell'emozione così difficile da controllare e di come utilizzare al meglio la nostra voce, la respirazione, le pause. Nel pomeriggio invece scopriremo gli aspetti tecnici della professione di speaker e doppiatore, della pubblicità mediatica in continua evoluzione, dell'importanza dei fonemi e dell'edizione. Con Alex Poli interverranno ospiti e professionisti per storytelling ed esempi dimostrativi. Discorso, voce alle parole. Un evento unico sabato 11 giugno all'Enterprise Hotel di Milano in Corso Sempione. I posti sono limitati. Prenota adesso su voci.fm. Partner ufficiale Voxil Voce Gola, integratore alimentare a base di erisimo.